Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale o benvenuti, io sono Paola e oggi vedremo insieme il tour della cameretta di Chloe. Chloe, per chi non mi conoscesse, è la mia bambina. Il 10 di aprile farà 4 mesi, quindi vi dico subito che faccio due premesse. La prima è che attualmente Chloe sta dormendo, ecco la qua che c'è in sottofondo, attualmente sta dormendo ancora nella next to me in camera da letto con me e Jacopo, ovviamente troppo piccolina per dormire in cameretta da sola, quindi questa è la prima premessa. La seconda premessa è che la cameretta è parzialmente arredata, quindi non vedrete tutto 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 completo perché ci sono ancora delle cose che io sfrutto e al momento lei non la sta utilizzando e diciamo che alcuni oggetti non fanno proprio parte dell'arredamento di una cameretta di uno nato, però ci tenevo comunque a farvi vedere quello che sono riuscita a comprare e come l'ho arredata fino ad oggi, insomma. E niente, buona visione! Ok ragazzi, allora salite le scale. Questa qui è la porta di entrata della cameretta, porta tutta bianca e fuori ho fatto mettere queste letterine che mi sono state regalate, sono le letterine della Thun, il legno e hanno il bioadesivo, quindi si possono attaccare senza neanche mettere i chiodi, ecco per intenderci, quindi entriamo. Cameretta abbastanza piccolina, subito qua a sinistra c'è questa parete che come vedete era un po' stretta e essendoci l'interrottore della luce era anche un po' difficile da addobbare, diciamo, da decorare e quindi ho deciso di comprare questo metro adesivo che ho comprato su Amazon e è fatto proprio a forma di alberello con il gufetto, le foglioline, la casetta per gli uccellini, è molto carino, arriva fino al metro e quaranta, quindi è bello e parte dai dieci centimetri, quindi dovete posizionarlo se vi piace o vi interessa comunque un po' più in alto rispetto allo zoccolino se è più basso. Poi subito a destra ho questo armadio guardaroba e questo guardaroba qui l'ho comprato all'IKEA, come sapete sul sito dell'IKEA potete fare la configurazione degli armadi, io ho deciso di farlo in questo modo quindi non è da catalogo, le ante, le maniglie e all'interno dovete progettarlo voi, insomma a vostro piacimento, io l'ho fatto in questo modo, poi vi farò vedere l'interno anche dell'armadio in un altro video. Comunque sostanzialmente è fatto in questo modo, hai due lati esterni, destro e sinistro, con le mensole e l'interno invece il centrale, le due porte centrali si aprono e hanno due appendiabiti in alto e in basso hanno i cassetti, poi ve lo farò vedere, promesso. Poi da questa parte parete completamente liscia, vuota, non arredata, solo questi tre quadretti. Allora intanto vi faccio notare anche il colore della parete, allora abbiamo scelto per tutte le pareti un colore diverso, quella dietro il mobile e l'abbiamo lasciata bianca per comodità, perché chiaramente essendoci questo armadio che occupa tutta la parete non ci sembrava sensato neanche pitturarla. Questo lato invece è un color tortora, color terra, qui sopra abbiamo le trave, infatti era stato un po' complicato anche pitturare, e questi sono i tre quadretti. Allora, questi qui io li ho comprati, qua c'è la luce, vabbè, sono molto carini, mi piacevano anche i disegni. Allora, le cornici le ho comprate da Leroy Merlin, mentre i quadretti, sono dei poster, li ho trovati su Amazon. Da questa parte, da parte la stirella, la parete è stata fatta bianca, è lasciata bianca, e poi ho comprato, e ve l'avevo già fatti vedere, questi Pua, che hanno tra dimensioni diverse, grande, medio e piccolo, color bronzo, e li ho appiccicati su tutta la parete, vabbè, più o meno, non è che si vede granché, perché c'è anche il sole, ok, forse da qua si vede. Come vi dicevo prima, al posto della stirella, qui metterò poi il lettino. Poi, qua sotto, allora lui, lei, cagnolone gigante, in realtà non l'ho trovato da nessuna parte, perché mi è stato regalato a me, quando io ero piccola, da mio nonno, che ormai non c'è più, però chiaramente l'ho fatto lavare, disinfettare, e l'ho voluto anche per Chloe, perché mi piaceva tantissimo. Poi, il tappeto, anche questo, come vedete, riprende un po' il tema Pua, con questo micione, un po' intellettuale, e l'ho comprato anche questo qua su Amazon, ok? Poi ci giriamo da questa parte, qui abbiamo la porta finestra che porta poi sul terrazzo fuori. Ok, ragazzi, allora, questa è l'ultima parete, come vedete, anche qui abbiamo una parte bianca, che riprende un colore della stanza, e l'altra metà l'ho fatta a color tortora, diviso in questo modo, non è proprio metà precisa, ma mi piaceva così, in questo modo così. A parete troviamo sempre tre quadretti della stessa idea degli altri tre, quindi tre poster presi da Amazon e le cornici da Leroy Merlin, e mi piacciono proprio anche come le frasi che ci sono scritte, motivazionali, mi piacciono tantissimo sia questi che gli altri. Poi qui a sinistra troviamo questa cassettiera che in realtà avevamo già noi e utilizzavamo per le nostre cose sportive, e al momento è rimasta tale. Poi vabbè, qua sopra c'è una foto di noi quando eravamo molto giovani, questo è sempre un regalo che mi è stato fatto da una persona speciale. Questa l'ho comprata io recentemente, però non la guardo ancora perché è piccolina. Questa è una bilancia per pesare Chloe. Poi qui sotto, lo faccio vedere bene, troviamo questa cesta con questo orsacchiotto gigante della Nanan, Nanan non so come si pronuncia, comunque ve lo faccio vedere, vediamo se riesco. Allora, comunque dentro è così, ha queste catenelle d'oro, è molto carino, con il suo cappellino, insomma per andare a nanno. Allora, questo qui mi è stato regalato da dei nostri amici, molto molto bello, molto apprezzato, e basta ragazzi. Allora, vabbè, questo qui al momento non so per come, cosa lo utilizzeremo, scusate, probabilmente sarà un portagiochi all'inizio, poi vedremo, non lo so. Infine ragazzi, vi volevo far vedere, vediamo se riesco. Allora, questo qui è tipo il fiocco nascita, adesso non so come si chiama, con scritto sopra Chloe, che mi è stato regalato da una mia cara amica, e l'ho messo qui all'entrata della porta. E basta, adesso qua ci siamo io e Chloe. Ciao! Ok ragazzi, allora, il video è terminato, spero che la cameretta vi sia piaciuta, è ovviamente una cameretta molto piccolina, però diciamo essenziale, secondo me, per una bambina, ecco. Niente, qui sotto in descrizione vi metto gli articoli e dove li ho comprati, se siete interessati poi mi scrivete, magari così vi metto anche i prezzi, e niente, io come al solito vi ricordo, se vi è piaciuto il video di mettere un pollice in su e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!